Io non l'ho visto, ma comunque... Come non l'ha vista? Non ho visto che devo stare, perché il mio compito non è guardare la televisione. Non ci posso credere che lei non abbia visto. Avevo degli impegni. Ma era una cosa importantissima per voi del PD. Avevo già deciso per chi votare, lei anche lo sa. Adesso ne parliamo per chi vota, teniamo la saspance per chi non lo sappia. Comunque la novità di queste settimane è che si intravede, magari lontano, magari ancora piccolino, un centrosinistra che torna a essere un'alternativa competitiva.